Io credo che noi dobbiamo lavorare per i cittadini, non è una questione di lotte tra partiti, è una questione di risposte che si danno ai cittadini europei. Questo è l'unico modo per impedire che cresca il malcontento dei cittadini. Come Presidente non faccio il tifo per nessuno. Come deputato europeo del Movimento di Forza Italia, è ovvio che sostengo la mia forza politica, ma come Presidente del Parlamento europeo, innanzitutto mi preoccupo di ciò di cui hanno bisogno i cittadini. Ho dedicato il mio impegno politico dal 1994 ad oggi a fare questo. Qualche risultato concreto l'abbiamo raggiunto, qualche cambiamento sono riuscito a imporlo a questa Unione europea. Ricordo il blocco dell'azione dei tecnocrati del servizio di vigilanza della Banca Centrale Europea. Ricordo lo sforamento del tetto del 3%, insisto perché questo non si è mai fatto, quindi sono cose che sono state ottenute. Non sempre gli italiani poi hanno utilizzato i risultati ottenuti a Bruxelles, ma questa è un'altra questione. L'euro non è un dogma di fede, è la moneta unica. Uscire oggi dall'euro significherebbe uscire anche dall'Unione europea, significherebbe fare un danno al potere d'acquisto di tutti i cittadini italiani, significherebbe colpire soprattutto i più deboli, significherebbe colpire le imprese e l'industria italiana, significherebbe uscire dal mercato interno dell'Unione europea, insomma un danno incommensurabile alla nostra economia. Questa è la verità oggettiva. Bisogna tenere conto, forse qualcuno può dire che non bisognava entrare nell'euro, forse bisognava trattare diversamente, ma questa è un'altra vicenda. Per come stanno oggi le cose, uscire dall'euro è una sciocchezza, che poi si debba modificare la situazione, si debba combattere per avere una banca centrale europea come la Federal Reserve degli Stati Uniti, che si debba lavorare per avere una zona euro che sia equilibrata e ci siano garanzie per tutti, non soltanto per alcuni, questo è un altro discorso, ma questo dipende dall'impegno politico che ogni Paese membro dovrà approfondere, mi auguro che l'Italia lo profonda in maniera forte e convinta, come lo sto approfondendo io da Presidente del Parlamento europeo. Uscire dall'euro, l'ho detto più volte, è una sciocchezza, perché il danno non si fa all'euro, si fa al popolo italiano. E il mio dovere di parlamentare europeo e di Presidente del Parlamento europeo è di difendere il popolo italiano, non difendere questa o quella parte, difendere i diritti del popolo italiano, il lavoro del popolo italiano e difendere coloro che possono creare occupazione per chi oggi non ce l'ha. Penso ai giovani che escono dalle scuole, i giovani che escono dalle università. Una politica economica che abbia una politica industriale solida che creda nelle piccole e medie imprese, nell'agricoltura, nel commercio, nell'artigianato, nelle libere professioni, non può essere una politica economica che distrugge l'euro, perché per come sanno oggi le cose sarebbe pernicioso per i cittadini italiani, non per la politica italiana, per i cittadini italiani.